Ah ma dammi un consiglio, meglio questo colore, questo o questo? Anche questo è bello! Giovanna, con te in casa io ne vedo sempre di tutti i colori. Grazie ai colorati di in blu puoi divertirti a cambiare colore e abbinarli secondo i tuoi gusti. E poi sono comodi, così comodi, che non smetterei mai di indossarli in tutte le stagioni. I colorati di in blu sono disponibili anche con velcro o elastici, per una calzata perfetta e nella versione a punta aperta. Hanno un plantare anatomico in morbida pelle che si adatta perfettamente al piede. Sono flessibili e leggeri per una camminata in totale relax. Ecco perché mi piace indossarli tutto il giorno in casa e in giardino. Anche noi uomini possiamo scegliere le nostre in blu nelle versioni in bianco e blu, per avere sempre il massimo comfort. E per pulirli basta una semplice passata di spugna e tornano come nuovi. Vai su inblu.com e scopri tutta la collezione. In blu, sempre con te! In blu, sempre con te! Per pulirli basta! Per pulirli! Per pulirli!